Cristiano Giuntoli si è liberato dal Napoli e adesso potrà casarsi alla Juventus. Questa la notizia di giornata, arrivata nella serata di ieri, che pone fine a lungo tiro e molla tra il presidente dell'Aurentis e suo ex direttore sportivo. Dopo mesi e settimane di discussioni, il numero uno del Napoli si è convinto a lasciare andare dagli ecermi rivali uno degli artefici di questo meraviglioso scudetto, conscio di non poter andare oltre. Al tempo stesso, però, le parti non si sono semparate senza strascichi, dell'Aurentis, come sappiamo, ha tentato in ogni modo di ostacolare il trasferimento, chiedendo alla Juventus addirittura di accollarsi Zielischi, calciatore in uscita. Una proposta che ha fatto perdere le staffe al club bianconero, che poi ha dato l'ultimatum per la chiusura della transazione. Giuntoli ha stretto la mana da DL, firmando una liberatoria per i compensi non ancora percepiti, ammontanti a 390.000 euro, oltre ad ignorare un premio scudetto di 500.000 euro. Con una somma totale di 890.000 euro, finalmente ha ottenuto la libertà che cercava da almeno due mesi. Questo risultato è stato agevolato dalla risoluzione tra DL e Maurizio Scanavino, la di De Bianconeri, che si è dimostrata irremovibile nella sua posizione a favore della Juventus e poco inclina a negoziare. Nonostante ciò, la telefonata è stato un bel gesto che ha spinto Giuntoli ad incontrare a DL per un saluto. Giuntoli va via da Napoli, consapevole di aver contribuito allo sviluppo e alla crescita del club, portando in bacheca una Coppa Italia e lo scudetto atteso da 33 anni. Ad essa ad attenderlo c'è la Juventus, che vive nuovamente un momento nero nella sua storia, con l'obbligo di dover restaurare tutto, a iniziare un nuovo ciclo vincente, ma con risorse limitate di una situazione finanziaria tutt'altro che Florida.